Il mio intervento sarà mirato a descrivere l'approccio del Regno Unito in merito alle negoziazioni e all'idea di relazioni future. Vorrei, come ho fatto prima durante le occasioni simili qui, fornirvi subito una rassicurazione. Il mio paese non ha alcuna intenzione di chiudersi. Chiudersi agli scambi con il resto del mondo e scambi di ogni tipo, economici, culturali e sociali. Grazie.